Scopri come sottoscrivere un fondo direttamente dal tuo Internet Banking. Accedi alla sezione Investimenti dal menu principale e clicca sulla voce Ricerca titoli e fondi. Dal menu a tendina potrai scegliere lo strumento che desideri ricercare. In questo caso, seleziona Fondi e SICAM. All'interno della pagina potrai ricercare il fondo di tuo interesse digitando il nome o il codice ISIN oppure selezionando, se lo desideri, la società di gestione, il rendimento, la macro categoria, la divisa di denominazione e il rischio. Per una ricerca approfondita potrai impostare parametri di ricerca più specifici, aprendo la sezione Dedicata. Una volta trovato il fondo che stai cercando, clicca sulla riga corrispondente per entrare nella scheda di dettaglio. In alternativa alla ricerca diretta, accedi alla sezione Investimenti dal menu principale e clicca su Catalogo investimenti. All'interno della sezione Fondi e SICAM, clicca su Catalogo fondi e SICAM per visualizzare l'elenco dei fondi disponibili. Cliccando sulla lente di ingrandimento sul comando Filtri, hai la possibilità di filtrare la tua ricerca in base al livello di rischio, al rendimento in percentuale da inizio anno e di quello degli ultimi tre anni. Una volta trovato il fondo che stai cercando, clicca sulla sua descrizione per entrare nella scheda di dettaglio. Nell'intestazione della scheda troverai i dati principali del fondo di investimento, tra cui la descrizione del fondo, la tipologia, il rendimento da inizio anno, il valore quota, l'ultima variazione e il livello di rischio. Nella parte centrale, sotto l'intestazione, avrai a disposizione diversi tab che rimandano alle varie sezioni della scheda del fondo. La sezione Overview mostra le caratteristiche principali del fondo, tra cui il rendimento, rappresentato con un istogramma, che riporta l'andamento del fondo negli ultimi cinque anni. Sono inoltre disponibili il Rating Morning Star e la descrizione della politica di investimento del fondo. In fondo alla scheda, trovi la documentazione di riferimento del fondo stesso. La sezione Performance è dedicata all'analisi dei rendimenti del fondo e al confronto con i risultati del benchmark. La sezione Indicatori è dedicata alle analisi sul rischio e sulla volatilità del fondo. La sezione Composizione approfondisce la ripartizione degli investimenti del fondo, con indicazioni sull'asset allocation, i principali strumenti in portafoglio, le aree geografiche e i settori di investimento. La sezione Fondi simili analizza i fondi simili appartenenti alla stessa microcategoria ed aventi Rating Morning Star pari o superiore. Dopo aver analizzato il fondo nei dettagli che più ti interessano, clicca su Sottoscrivi per procedere con l'operazione. All'interno di questa pagina avrai un riepilogo del prodotto. Potrai inserire l'importo da sottoscrivere e controllare che il conto di addebito sia corretto. Leggi la documentazione di sottoscrizione del prodotto e seleziona le caselle per confermare. Prima di procedere con la sottoscrizione, potrai visionare tutti i dettagli relativi alla descrizione del fondo, all'importo inserito e all'intestatario, e gli estremi della valutazione di adeguatezza. Clicca su Conferma per concludere l'operazione. Nella pagina di esito puoi revocare la sottoscrizione del fondo. Dopo aver visualizzato tutti i dettagli dell'ordine che stai revocando, clicca su Conferma. In questa schermata troverai un modulo per confermare l'operazione. Per procedere, sarà necessario cliccare sulla casella in alto a destra, per dichiarare di aver letto il documento e di voler apporre la tua firma digitale. A quel punto, potrai premere il pulsante di Conferma. La pagina di esito ti darà conferma della ricezione della richiesta di revoca, specificando la descrizione del fondo, il numero dell'ordine e la data. In alternativa, dalla pagina di esito potrai anche accedere al tuo patrimonio. Ricorda che ci vorrà qualche giorno prima che la tua operazione sia visibile nella pagina. Per ulteriori chiarimenti, avrai sempre a disposizione le funzionalità di supporto e assistenza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.